Ciao a tutti, vediamo in questo video 10 ragioni per cui siete ancora single. In questo video voglio cercare di far capire quali sono 10 possibili ragioni per cui, nonostante magari tu non vorresti esserlo, sei ancora single. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra 3 livelli di abbonamento, abbonamento base e connessione mirata, abbonamento top, connessione mirata e videoregistrazione e seminario da live, abbonamento master consulting, con in più una consulenza telefonica. Ma veniamo al tema, 10 ragioni per cui sei ancora single, per cui siete ancora single. Intanto la cosa fondamentale, la prima cosa che bisogna fare per evitare di essere single è, diciamo, smetterla di aspettare che arrivi l'amore, perché l'amore arriva quanto meno te l'aspetti, quanto più hai distacco del risultato. Quindi questo è un punto di vista, è un punto fondamentale, un punto di partenza, una condizio sine qua non. Ma detto questo, quali sono poi le ragioni per cui puoi essere single? La prima è la pigrizia, diciamo. Ovviamente non bisogna stare lì e aspettare, ma bisogna anche, però, mettere energie, mantenere distacco del risultato, ma mettere energie in quello che si fa. Quindi se tu vuoi davvero conquistare una persona, e ripeto, mantenendo il distacco dal risultato, però quello che devi fare è interagire con le persone, uscire, vedere gente, interagire anche nei social, trovare, interagire soprattutto con persone che siano nella zona, nelle tue vicinanze, non con persone che abitano magari in, cioè, molto lontano da dove sei tu, perché poi diventa complicato, entro i 50 chilometri, comunque, quindi l'ideale sarebbe entro i 20 chilometri. Quindi comunque cerca di impegnarti, sia che sei uomo che sei donna, a presenziare, essere attivo, essere attivo in circolazione, altrimenti non trovi, non troverai mai niente. Un altro motivo è che invece, diciamo, ti piace, ti piace in realtà essere single. Dici di non volerlo essere, ma in realtà ti piace perché lo status da single può essere oggettivamente piacevole. Puoi vedere tutte le persone che vuoi, non hai vincoli, insomma, può essere veramente uno stato piacevole. Quindi questo è fondamentale. Se è questo il tuo status che ti piace, beh, renditene conto e smettila di, come dire, di andare a cercare l'uomo della vita. Un altro motivo è che sei estremamente, diciamo, come dire, estremamente astioso, insomma, odi un po' la gente. Non hai... hai della rabbia verso il sesso opposto. Ecco, questo è un qualcosa che comunque traspare. Se hai avuto diverse delusioni verso il sesso opposto, questo, diciamo così, terzo motivo è proprio quello. Cioè, le delusioni vissute col sesso opposto o presunte tali ti hanno portato rabbia verso il sesso opposto e questo ha fatto il resto, fa sì che questa rabbia comunque ti vada a rottamare qualunque possibilità di, diciamo, di trovare una persona. E il quarto motivo è un'eccessiva sensibilità. Cioè, persone eccessivamente artiste, eccessivamente sensibili, possono avere problemi a trovare un partner perché se hai un'eccessiva sensibilità entri subito in stato di sofferenza e vedi delle cose che magari altri non noterebbero, riesci a vederle e questo ti genera sofferenza, uno stato di cui gli altri poi tendono anche ad approfittare, insomma, e a sganciarsi. Eccessiva disponibilità, perché l'eccessiva sensibilità porta a eccessiva disponibilità, non è lo stato mentale idoneo, migliore per poter avere una relazione, anzi è esattamente il contrario. Il quinto motivo è avere la mania del controllo. Voler controllare tutto è proprio l'antitesi dell'amore. Quindi se sei una persona che vuole controllare, che vuole, diciamo, da subito, quando entri in contatto con una persona inizia a tartassarle, inizi a dire dovresti fare questo, dovresti fare quell'altro qua e là su e giù e controlli e fai, beh, diciamo che sei come la criptonite per Superman, allontani comunque le persone. Quindi la mania del controllo è veramente qualcosa di negativo. Un altro motivo è essere emotivamente instabili, cioè essere persone che, no, non dico squilibrate, ma emotivamente stabili, che cambiano idea, che non sanno gestire i propri stati emotivi e quindi talvolta si lasciano andare in scenate quando magari non ce n'è assolutamente bisogno. Sono tutte modalità che fanno sì che non sono le modalità ideali per trovare una persona giusta. Altro motivo del settimo è essere iperattivi, cioè avere mille impegni, mille impegni lavorativi o mille impegni magari sempre negli stessi ambienti dove già hai trovato che non ce n'è. Magari frequenti una palestra, frequenti un corso di ballo, frequenti il corso di musica, frequenti, che ne so, i soliti amici, frequenti... hai la giornata, diciamo, programmata. Certo, tu dici io esco, faccio, però sempre negli stessi ambienti, dove non c'è ricambio e quindi ti trovi la giornata piena, arrivi magari poi alla sera pure stanca e quindi te ne stai magari a casa o se esci, esci sempre con il solito gruppo di amici, quindi un'imperattività senza possibilità di nuove conoscenze. Beh, poi c'è l'ottavo, che questo è... si spera che nessuno abbia questo, ma soprattutto molti uomini ce lo possono avere, è un po' l'igiene e la cura personale. Anche per gli uomini il detto che il maschio è da puzzare non va bene, insomma. Sembra una cosa strana, però anche l'igiene e la cura personale può essere ostativo, diciamo così, nei confronti del trovare una relazione. Soprattutto anche da tenere presente l'igiene orale, l'alito, insomma, deve essere lindo, cristallino e altrimenti ci sono buone possibilità che non riuscite a trovare nulla. E poi non ho punto a essere... non essere concreti, la mancanza di concretezza, essere sempre con la testa tra le nuvole, non rendersi conto delle cose che capitano. Chi non è concreto non sa porsi degli obiettivi che siano degli obiettivi che possono avere una certa significato, una certa valenza, quindi dati degli obiettivi concreti che siano smart, specifici, misurabili, accessibili, realistici e temporalmente collocati, anche nelle relazioni sentimentali affettive. Non darsi obiettivi, essere con la testa tra le nuvole è praticamente molto ostativo nel trovare una relazione. E poi, decimo punto, il narcisismo perfezionista, cioè non accontentarsi di nessuno. È ovvio che in qualche modo, diciamo, la perfezione non esiste. Se tu cerchi un modello di perfezione, è soltanto un modo per non voler trovare nessuno, perché cercare un modello di perfezione è una sorta di narcisismo perfezionista, per cui è un modo per non trovare nessuno. Quindi bisogna, in certi casi, non dico accontentarsi, ma abbassare un attimino la sticella. La perfezione non esiste. Queste sono le dieci motivazioni principali per cui sei ancora single. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base, abbonamento con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate a videoregistrazione e seminario dal vivo, abbonamento Master Consulting, con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!